Per me Vittorio è stato un amico, un collega, un grande direttore e anche un padre professionale. Mi ha insegnato tutto nel lavoro della radio. E nove anni di TG Zero, la nostra trasmissione insieme, sono stati un'avventura pazzesca, un viaggio lungo e avventurosissimo. Con Vittorio non sapevi mai cosa ti poteva aspettare alla fine della giornata, sia che eri in studio, sia che era in collegamento dal suo studiolo, dalla sua stanza al primo piano della sua casa di Washington DC negli Stati Uniti, sia che si trattasse invece di andare in giro con l'automobile a noleggio per le strade d'Italia a fare il nostro TG Zero Live Show andando da nord a sud a incontrare il nostro pubblico. Fumava sempre in macchina nell'attesa degli spettacoli, degli show, poi dopo. E poi tante risate, tante chiacchiere e tanta curiosità. Una cosa di Vittorio era che ne sapeva più di tutti, perché era stato corrispondente a Bruxelles, a Tokyo, a Mosca, durante l'Unione Sovietica, aveva visto il collo del muro di Berlino, era stato corrispondente da New York, da Washington, Centro America, la rivolta del Chiapas, era andato a seguire la prima guerra del Golfo. Insomma, Vittorio ne sapeva di tutto e di tutti, eppure era sempre curioso. Fermava la gente in giro, voleva sapere l'ultima ricetta di una prelibatezza di un certo posto, oppure voleva sapere che si diceva del sindaco di quella città. Sempre all'ascolto, perché è proprio curioso. Infatti, qual è la prima caratteristica di un giornalista? Che devi essere curioso. Vittorio ci mancherà tantissimo. A noi della radio, per noi è stato proprio un papà, per vent'anni ci ha insegnato tutto, ci ha insegnato il mestiere. Per noi è come se avessimo perso una parte importantissima della nostra famiglia, perché le radio sono un gruppo, sono delle famiglie in cui si va avanti ora per ora, giorno per giorno, anno per anno. Ciao Vittorio, ci mancherai tanto, però ti ricordiamo con l'ironia e con il sorriso che avevi sempre. Ciao Vittorio, un abbraccione da me e da tutti quanti. Ciao.